no eh ho dovuto ucciderlo è entrato cazzo ok adesso è meglio se mi becco un'arma buona dalla cassa però 16 round 16 vediamo un po' no il fall no il fall eh si va bene quello che vuoi però dammi un'arma cazzo ok dobbiamo andarcene ok so già cosa fare con lo spas 12 sta fuori bene non sarà l'arma ideale però neanche la peggiore dai poteva andare peggio molto peggio adesso lasciamo che si accumulino io correrei anche ecco anche adesso bene ho un po' dietro no direi che possiamo adesso tranquillamente fare così un insta kill eh lo spas tornerà utile ora andiamo su attivare i defcon che non si sa mai che ci sia bisogno di usarli in caso di emergenza magari quindi teniamoli sempre attivati questo è quello che abbiamo imparato giocando in quattro persone ok ascensore teniamo più lontano lo zombie eccoci facciamogli fare il giro per sotto adesso boh adesso ce l'ho fatta adesso muore dai respawno a sopra mi raccomando oh eccolo qua guarda che bravo era già qua che mi aspettava dai via lo spas via lo spas balestra spas va bene ora ho tutti ho tutti i tentativi che voglio eh cassa dico che ne darmi una buon'arma orsetto aspettiamo però potrebbe anche sponare di qua volendo la facciamo così intanto vediamo notiamo il logo della 3 porca troia volevo mirare ma giustamente premendo il tasto destro cosa succede sparo cristo merda no mi ha fregato lì cazzo merda ti prego no non le mustang e selli ti prego no porca troia le mustang e selli no per favore per favore no tutte tranne quelle dai vai giù cazzo però ecco non va niente ragazzi perse mustang e selli ma va a cagare va si system monitor di merda dammi l'accesso andare di sotto se no bestemmio non ho fatto in tempo a switchare l'arma più che altro ho sbagliato il tasto dello switch ho premuto Q invece della rotellina cazzo non importa non ah beh fammi aspettare giusto per farmi perdere anche le munizioni e saldi sono nella merda ragazzi nella merda sto pensando ok la mia situazione potrebbe non essere una delle migliori ma non è finito non è detto niente ancora ho due armi di merda ma nulla è ancora stato scritto quindi con questa qualcosa cosa facciamo beh dai non va male no cioè notare come li sto beccando tutti in testa ma non muoiono ecco già finiti i colpi cazzo cazzo non importa non importa via merda ok adesso parlerò poco perché devo concentrarmi in quanto ho finito i colpi beh ecco sta arma qua guarda possiamo andare avanti tutto il giorno facciamo solo zoppi così quanti punti cazzo però ok 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 qualunque cosa sia successa va benissimo uguale l'importante è essere arrivati qua e aver preso questa ok mettiamo qua quella che io chiamo trappola adesso muoviti montala no l'ho attivata merda si 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 bene 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 ragazzi bene passato passato è passato il difficile è fatto il difficile è fatto scimmie ok però voglio qualcosa che spari ok vediamo un po' non male che altro hai ok andiamo loll lui è invincibile lui preferisce non morire si si beh il dragon è fortissimo vediamo dove respona adesso dov'è lo zombie guardalo là guardalo qua che è convinto non ha come se quello se non sbaglio dovrebbe essere qua no ma là dentro eh si è là lo sapevo dai qualcos'altro dai qualcos'altro no questo no questo proprio non lo prendo ho ancora un tentativo qua probabilmente studiavano gli zombie o più o meno boh qualcosa riguardante gli zombie vediamo o umani comunque no bene la direttà non è bene però bene dai mi viene da dire soltanto questo bene dai voglio andare di sotto i teletrasporti per lasciare sopra il l'ascensore in modo che non venga a giocare un pericolo ma mi sa che mi toccherà prendere l'ascensore vediamo un po' dove mi butta si ok io provo l'ultimo teletrasporto e poi se non riesco prendo l'ascensore ok adesso è meglio prendere l'ascensore avete visto che qua la situazione si sta facendo movimentata volevo lasciarlo qua su perché sennò poi c'è una finestra in più che rompe le palle muori vedete c'è la finestra in più e rompe parecchio ok ho perso ma stanghi selli che era l'unica cosa che mi faceva andare avanti non ho armi che mi possono far andare avanti tanto direi che la mia situazione è ottima siamo convintissimi però qua è dura è dura ragazzi no ma non c'è problema oh non c'è problema no adesso adesso aaaaaa uh saldi ok bene ora andiamo a prendere i soldi prima che spariscano fire sale ok prendo e rifaccio prendo e rifaccio un ultimo tentativo via un altro dai ti prego ce la uh no faccio maglia a tenermi l'hk21 cristo sta cassa di merda oggi ce l'ho con me un attimo sta cassa ce l'ho con me oggi ok eccomi eeeh beh ma non è un problema meglio delle cz che noi abbiamo già utilizzato quindi vedete comunque questa almeno uccide no no ok si c'è mancato un pelo lo so non so come ho fatto di uscire da lì ma non importa la cassa è ancora sotto uh i punti in basso a destra oh my god ok cambiamoli che è meglio bene 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 ne lasciamo uno magari o anche due e andiamo sotto vediamo adesso ti prego un'arma decente una ray gun non chiedo tanto una ray gun per favore cioè ma è così difficile oh questa è buona è così difficile prendere una ray gun dalla cassa su questo gioco no non pensavo così difficile ecco bene vediamo dove si sposta questa bellissima e simpaticissima cassa oh qua c'è questa bene vediamo oh no a metà ok questo lo ritiriamo su e prendiamo un po' di teletrasporti adesso ancora un po' di teletrasporti ma si divertiamoci quei teletrasporti che prima o poi arriviamo a destinazione no ecco infatti e vedete con la calma si fa tutto con la calma e con la pazienza più pazienza che calma vediamo cos'altro c'è una lake ottima arma e poi il personaggio sono stato sparacazzate immense dicendo che c'è una lake è forte si questo è quello di cui avevo bisogno certo non ce la farò mai a trovarla non ce la farò mai a trovarla ragazzi poi cos'altro hai una rpk sarà buono però non è che non la voglio questa io volevo la rega non la voglio questa non fa caso mio vabbè vabbè a quanto pare mi devo accontentare di tenermi questa la rega ne era più devastante questa qua li rallenta cos'altro va bene dai me la faccio bastare ragazzi me la faccio bastare poi la cambierò cioè guardate per ucciderli quanti colpi dovrei buttare là e non li ammazzerei nemmeno tutti quindi capite che non è l'arma che che mi interessa però questa andrebbe bene tipo nel multi per rallentare gli zombie mentre si fa una reanimazione o qualcosa simile però cioè in cooperativa ma in singolo non è che sia tanto utile sinceramente non è per niente utile in singolo ok via winter's hole e adesso dai si va avanti più veloci ragazzi siamo già al 21 occhio perché adesso arriva il bastardo eh arriva adesso lo sapevo quanto lo odio sto coso con cosa cazzo lo uccido adesso con cosa cazzo lo uccido dimmelo boh prendimi sto galil e adesso ti aro cazzo non importa dai ragazzi non importa bene anziché i saldi vorrei adesso tipo arrivare al al piano terra ok prendo l'ascensore ho capito via almeno un'arma che riesce a uccidere quel bastardo così riesco a proseguire bene dai ok no la double tap su black ops non lasciamo perdere una cassa per sfizio ma si buttiamo via 10 punti infatti è le 96 bene tanto la reagan insieme a questa non me la daranno mai quindi finché avrò colpi le cose vanno bene quando non avrò più colpi sarò fottuto inizierò a cambiare arma su arma ogni round oh cosa ho visto là un giro un giro proprio tranquillo ragazzi di quelli calmi e adesso possiamo cosa io pensavo fosse più devastante me la ricordavo tanto più devastante beh dai si è devastante è molto devastante ragazzi è tanto devastante lo ammetto ara abbastanza boh prendiamo va bene finito il 22 penso di si no non ancora ma sta per finire non preoccupatevi ok 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 oh qua ne arrivano ancora vabbè due andati si yes 23 round convintissimi che ora è 15 15 59 ragazzi se le 15 59 staremmo giocando da più o meno un'ora forse un pelletto di più abbiamo avuto quei piccoli inconvenienti che ci faranno andare avanti un po' più lentamente per quelle stronzate del cazzo non importa almeno qua saltiamo i round intendo che ogni tot arriva quel convinto lì e quindi alla fine ne saltiamo un po' di round almeno quello almeno perché sennò era veramente qualcosa di devastante che bastardi come accerchiano basta mi colpiscono ok ok cos'è che è là non vedo ok c'è un instakill andiamo a prenderlo con calma e poi li uccidiamo dopo ok eccoci qua si sprechiamo anche i colpi adesso finché c'è l'instakill che poi ci sono le max ammo perché dico tutto quello che bisogna fare lo sapete il perché sparerò così cristo non importa guarda quanti ok facciamo così no no che idiota che sono sono un idiota ragazzi non ho preso l'emmo morite tutti perché sono agitato adesso via ho solo l'urro dell'inverno qua oh saldi ma si con i saldi si cambia il gallipo cosa vuoi fare eh mi tocca ucciderli con questa non so cosa fare voglio lo scudo di mob of the dead cazzo ah vabbè facciamo tutto dai tanto abbiamo mi sa che è finito si ok non importa un rpk e la winter adesso niente male grazie 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 grazie